Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News Oggi esploreremo insieme il mondo dei cordini ed in particolare scopriremo insieme un cordino che ha fatto la storia, che tutti amano per la sua scorrevolezza, per la facilità nella lavorazione, per il suo tocco di luccichio ed eleganza che non passa inosservato. Stiamo parlando proprio del Sublime Lux. Eccolo qui il nostro cordino thai Sublime Lux in poliestere e poliamide lurex. Un cordino che offre davvero il massimo del comfort nella lavorazione delle borse ed affini. Il formato è in rocca da 200 grammi ed ha una lunghezza di 200 metri con un diametro di 3 mm. Sono quindi consigliati gli uncinetti dal 3 al 4. Come possiamo vedere gli intarsi lurex sono ben visibili, creando un tocco di luminosità davvero unico. Questa che vediamo è la colorazione Tiffany, ma è soltanto la prima delle tante colorazioni disponibili nella vasta gamma del Sublime Lux. Scopriamoli tutte! Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.